Cari amici followers, con questo video messaggio denuncio l'intrusione all'interno della mia abitazione da parte delle scrofe mafiose aliene. Avevo il sospetto che avessero le chiavi di casa mia. Ieri tornato dopo un'uscita, ho trovato il frigorifero svaliciato. In questo periodo sto a casa da solo, i miei genitori adottivi sono in vacanza, e quindi ora ho la certezza che possono entrare dentro casa mia come e quando vogliono. Il danno è minimo, l'avvertimento è chiaro. Perché, oltre ad una persecuzione che si sta facendo sempre più feroce, anche l'accanimento verso casa mia, perché il Papa si è fatto intestare illegalmente tutte le abitazioni e quindi considera anche questa come casa sua. No, inoltre gli alieni starebbero facendo di tutto, pur di spingermi verso l'uso di droga e verso la pazzia, perché solo così sarei riaccettato al pianeta Terra. In quanto gli Stati Uniti, quelli col debito pubblico più scandaloso di tutti, quelli che si illudono di poter quindi comandare qualcosa, hanno detto che mi rivolgono solo se assassino, drogato, pazzo e ricchione. Allora diventerei il perfetto portavoce dicendo che la mafia è necessaria, che bisogna essere fanatici di Allah, che le donne sono inutili e addirittura che c'è solo bisogno di cello e di pensare al retto. Inoltre gli alieni mi starebbero spingendo verso il suicidio, perché sono impossibilitato dalla Chiesa a viaggiare all'interno di un'astronave, in quanto l'unico rimasto sano di mente e non pocciacello. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi!